Proprio quando Chiara Ferragni ha deciso di tornare sui social, dopo giorni e giorni di silenzio, ecco che le parole del presidente dell'Antitrust, Roberto Rustichelli, riaprono una ferita. Rustichelli ha presentato la relazione dell'ANCMA a proposito della vicenda Balocco-Ferragni spiegando come la commissione tra sponsorizzazione e beneficenza penalizzi i consumatori. Meritano di essere richiamati, ha dichiarato il presidente, i procedimenti volti alla repressione di comportamenti scorretti in relazione alle recensioni online nelle istruttorie condotte e nel merito di essere richiamati. Queste ultime hanno evidenziato come il comportamento dei consumatori possa essere indebitamente pregiudicato da una comunicazione fondata su un'ambigua commissione tra sponsorizzazione e iniziativa. Queste ultime hanno evidenziato come il comportamento dei consumatori possa essere indebitamente pregiudicato da una comunicazione fondata su una condivisione delle proprie esperienze di consumo sulle reti sociali e negli spazi virtuali dedicati, che si inserisce nel più ampio fenomeno di generazione di feedback e contenuti da parte la condivisione delle proprie esperienze di consumo sulle reti sociali e negli spazi virtuali dedicati, che si inserisce nel più ampio fenomeno di generazione di feedback e contenuti da parte la condivisione delle proprie esperienze di consumo sulle reti sociali e negli spazi virtuali dedicati, che si inserisce nel più ampio fenomeno di generazione di feedback e contenuti da parte la condivisione delle proprie le recensioni dei consumatori nella commercializzazione di prodotti o servizi, ovvero sfruttando la strategia promozionale delle imprese sia quindi adeguata al nuovo contesto, valorizzando le recensioni dei industria dolciaria, Fenice SRL Le ultime due società riconducibili all'influencer Chiara Ferragni, concernente l'iniziativa Pandoro Pink ad esito dell'istruttoria, ha ricordato Rustichelli. L'autorità ha accertato che la donazione pubblicizzata come legata alle vendite del Pandoro Pink Christmas era stata fatta dalla sola ad esito dell'istruttoria, ha ricordato Rustichelli. L'autorità ha accertato che la donazione pubblicizzata come legata alle vendite del Pandoro Pink Christmas era stata fatta dalla sola ad esito dell'istruttoria, ha ricordato Rustichelli. L'autorità ha accertato